ciao allora oggi vi voglio parlare di questa cipria della essence che era tra la collezione ultima questa è all about silky matt questa dice fixy compact powder quindi una cipria fissante illuminante quella che ho io era il 10 translucent rose e allora la confezione è un 10 grammi e il prezzo di 3 euro e 79 si presenta così ma ovviamente io l'ho completamente finita e quindi adesso vi mostro allora come avete visto anche dallo swatch è davvero illuminante quindi luminosissima anche troppo sinceramente devo dire che attenzione a chi ha la pelle mista perché questa è una cipria molto illuminante ma comunque sia non non fissa il trucco quindi se avete la pelle mista e tende un po a lucidarsi durante il giorno questa lo mette ancora più in evidenza e oltretutto brutto da dire ma la parte oleosa tende a unire questo parte di cipria e quindi restano delle zone che sembrano quasi colorate luminose non è un bel effetto e non è sicuramente adatto a una cipria per chi ha la pelle mista stessa cosa chi ha la pelle secca attenzione perché tende a mettere in evidenza le pellicine avete visto quando ho fatto lo swatch sulla mano che avevo una qualche pellicina e me l'ha messa subito in evidenza e ha messo in evidenza proprio la grana della pelle quindi attenzione cosa dire non mi ha assolutamente entusiasmato va bene è una bella novità va bene carina però l'ho finita usandola come illuminante leggero perché non è quell'illuminante sparaflesciante ma è leggero quindi va bene come illuminante per scolpire il viso scolpire no per illuminare il viso ma come cipria sinceramente no non l'ho trovata adatta né per chi ha la pelle mista né per chi ha la pelle secca come avevo detto e di questa della linea all about matt che poi matt ma illuminante comunque della linea all about matt c'è la cipria classica quella colorata che mi trovo benissimo e anche quella bianca che con qualche accortezza davvero e dovrebbe essere traslucente in teoria però comunque anche quella funziona bene questa la silky evitiamola almeno io la evito perché assolutamente non mi è piaciuta e poi mi da degli effetti negativi che se devo andare a ritoccare durante il giorno non solo per la cipria perché non opacizza ma se come si dice se devo andare a ritoccare anche perché si lucida la zona t e la cipria tende a unirsi nella zona lucida e quindi devo andarla a rimuovere no non è proprio la cipria che fa per me sicuramente comunque sia aspetto le vostre opinioni perché sono curiosa era dell'ultima collezione quindi sono curiosa di sapere se l'avete provata come vi siete trovate e se sarà un fatto solo mio di gusto personale che voglio una cipria opaca oppure se l'avete riscontrato anche voi comunque per finirla anche se 3 euro e 79 si può provare sicuramente con l'essence si sa che funziona così ma io l'ho finita come illuminante e come illuminante leggero è anche abbastanza valida sicuramente fatemi sapere questa qui ve l'ho fatta vedere ok fatemi sapere se l'avete provata e come siete trovate io come sempre spero di essere stata utile se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così valete avvisato ogni volta che carico un nuovo video di make up low cost e alla prossima ciao